Inaugurata a Teramo la nuova officina farmaceutica dell'IZS, che permetterà di ampliare in maniera considerevole la presenza dell'Istituto sul mercato nazionale e internazionale, e renderà disponibili alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale prodotti innovativi per la diagnosi e la profilassi delle malattie animali e anche delle malattie infettive di origine animali trasmissibili all'uomo. La sua realizzazione ha richiesto tre anni di lavoro ed è costata 6 milioni di euro, fondi messi a disposizione quasi interamente dal Ministero della Salute. L'Istituto ha contribuito con circa 300 mila euro. L'officina farmaceutica è ubicata all'interno di un corpo di fabbrica in disuso, ex mattatoio, nel complesso immobiliare della sede centrale dell'IZS di Teramo, a Campoboario. Inauguriamo oggi un'officina farmaceutica che è unica in Italia, una delle poche in Europa, che è in grado di produrre rosa bengala e tubercolina, che sono due presidi diagnostici per il controllo di brucellosi e tubercolosi. In realtà noi abbiamo da tanti anni prodotto e continuiamo a produrre in deroga praticamente dal Ministero della Salute questi presidi, li vendiamo nel territorio nazionale attraverso sempre il Ministero delle Salute e i nostri colleghi degli istituti zoprofilattici. Oggi possiamo immettere sul mercato internazionale questi due prodotti e altri kit, altri prodotti simili a questi nel mercato mondiale, dove c'è una grande richiesta. Un riconoscimento importante per questa valida realtà abruzzese. All'Istituto della nostra regione va dato un grande riconoscimento, innanzitutto per il lavoro svolto durante la pandemia, per il grande supporto che ha dato sia per l'esecuzione dei tamponi, ma anche per quanto riguarda la sequenzialità poi delle varianti. Assolutamente non siamo fuori dall'emergenza sanitaria, abbiamo dei numeri elevati di persone positive nella nostra regione, però tengo a sottolineare, come ho già detto più volte, che siamo una regione dove facciamo il maggior numero di tamponi, siamo nella media nazionale, sono in aumento anche l'occupazione dei posti letto, ma siamo in grado di garantire quell'adeguata assistenza in ogni momento. Ma oltre all'inaugurazione dell'Officina Farmaceutica si è svolta la posa del busto di bronzo all'intitolazione del Parco Ecosostenibile, presente nella sede terramana dell'Istituto in memoria di Antonio Dionisi, noto accademico italiano nato a Pietracamela nel Terramano.